Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Io sono Michael The Dude e oggi vi insegnerò a piegare la carta per fare questa stella ninja trasformabile. Ok? È un origami modulare, occorrono 8 quadrati di carta per farlo. Bene, cominciamo! Bene, prendete un quadrato di piccole dimensioni, piegatelo a metà. Ora, tenendo la parte aperta verso il basso, prendiamo questo lato e lo portiamo qui. Quindi, pieghiamo per così. Sono davvero tre pieghe da fare. Per otto volte, sì, ma sono solo tre pieghe ed è facilissimo questo origami. Bene, ora apriamo e prendiamo queste due punte e le portiamo qui al centro. Ora richiediamo. Abbiamo questa pieghe guida. Dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare una reverse fold, ovvero una piega all'inverso. Dobbiamo... Scusate, lo ammetto così perché sono più comodo. Dobbiamo prendere questa piega e piegarla verso l'interno. Dobbiamo fare una piega all'interno. Dobbiamo fare una piega all'interno. Ora, qui dovremmo avere un'altra piega. Schiacciamola. E ora, c'è questa piega rimasta. Bene. Schiacciate anche questa e chiudiamo. La parte delle pieghe è finita. Dovete fare otto pezzi come questo. Vi mostro come assemblarli. Allora, prendiamo due pezzi. Prendiamo il primo con le due alette rivolte verso destra. E prendiamo il secondo e prendiamo le alette e le rivolgiamo verso il basso. Prendiamo questi due angoli e devono combaciare. Ora, questa la mettiamo dentro nelle due alette e facciamo combaciare i due angoli. Ora, queste due punte le dobbiamo infilare qui dentro. Quindi, la punta la pieghiamo verso l'interno e ce la facciamo stare dentro. in questo modo. E ripetiamo la stessa cosa con l'altra. Ripetiamo all'infinito. Le due punte in questo modo. Quanti ne mancano ancora? Un paio, ok. Sottolinea che c'è la musica di sottofondo, eh? Sennò che noia. Ok, l'ultimo pezzo da assemblare. Bisogna fare la stessa cosa, solo che bisogna farlo da entrambi i lati. Quindi, ok, allora, il primo, la prima parte, è uguale a quella di tutte le altre. Ma ora dobbiamo assemblare questo con il primo, l'ultimo con il primo. Ok, prendiamo il primo e lo portiamo verso l'alto. Beh, a dire vero, dobbiamo infiliarlo qui dentro. Scusate che qua mi sia incastrato, sia uscito. Bene. E ora abbiamo sempre questa punta da infilare qua dentro. Tutto qui. E l'origami, in sostanza, è finito qui. Potete prenderlo, aprirlo. Ricordo che le prime volte saranno un po' difficili. Ma quando prenderà la forma, si aprirà tranquillamente. Infatti a me mi si sta disfando tutto. Bene, comunque... Dopo che prenderà forma, non si disferà più. Potete aprirlo, potete chiuderlo. E così via. E la vostra stella ninja è completa. Anche oggi il tutorial si è concluso. Ma se volete piegare altra carta, potete esplorare il mio canale. Altrimenti, ecco a voi dei link rapidi. Se vi è piaciuto il video, potete cliccare mi piace e commentare. Altrimenti, se volete restare aggiornati su nuovi tutorial, non solo di origami, potete iscrivervi al canale. Da MichaelTheDude è tutto per oggi. Grazie per la visione. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.